ma bello a tutti se siamo tornati qua su un nuovo video perché essendo che comunque sono abbastanza appassionato di topolino oggi sono passato in edicola e ho trovato diciamo questo gadget qua con io topolino e con una sorta di block notice di topolino e ma queste cose qua un po mi garbano volete no voglio vedere che cosa è un compratto 70 anni di topolino e anche diciamo uno speciale e adesso tirando via la colla che potevano metterci diciamo una plastica intorno invece di mettere la colla qua sopra va bene allora intanto da come c'è qua ce n'è anche uno rosso io ho trovato solo quello nero e oggi andiamo a vedere un po questo nero che è uscito con io topolino con questo qua ok a poi del 20 poi ci dovrebbe essere anche il calendario da come dice qua dal 24 novembre ci dovrebbe essere anche il calendario adesso mi informo il retro è così ed è abbastanza carino passiamo alla gentosche vedete qua c'è il topolino un po reale il retro è il 70 anni di topolino con il cacciato rosso proprio una cosa molto molto sempliciosca è un blocco notice con il logo 70 anni di topolino e basta poi prenderlo così poi è un blocco notice proprio tutto semplice semplice che così uno che se vuole prendere tipo due appunti con il blocco notice di topolino lo può fare tranquillamente niente ve lo volevo far vedere vero e niente se vi piace dite un commento mi piace e ci vediamo al prossimo appuntamento bella